madonna mia una roba terribile sembra che mi abbiano picchiato da me perchè bentornati burdel nel mio canale io sono nerdy engineer e oggi siamo qua nella demo perché il gioco non l'ho comprato di ufc per picchiarci di botte fino a sanguinare oggi andremo a fare un incontro amichevole amichevole tra il signor non lo so contro il signor non lo so combatti ora combattiamo subito ora scegliamo l'angolo noi andiamo all'angolo con john jones o alexander gustavson noi prendiamo il nigg con le pistole e i coltelli facile tra round posso cambiare no ragazzi la difficoltà è facile io purtroppo non so che dirvi spero che o non sia troppo facile e lo randelliamo in 0 2 comunque ragazzi ve lo dico subito così adesso lo sapete non so i tasti ovviamente io davvero il mio rand ho saltato il tutorial e quindi filippines john jones questo a madonna se è brutto john jones più sei brutto più sei forte questa è la legge guardate i riberi bruce buffer presentators as the usators si va bene ciao si parte adesso picchio l'arbitro subito siamo partiti tasto poi poi tasti poi si parte subito con john jones oh shit john jones liscio amore boom pants boom oh shit ok ok abbiamo finito la stamina john con calma facciamo recuperare la stamina ehi stai tranquillo ehi ehi cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai vai via di qui sanguisuga basta muori gustav madonna quanto non so fare a giocare ragazzi non so fare a giocare ragazzi ehi niente oddio caduta 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 è morto john john cazzo pugni in front john esisti john john ok alzati john alzati john alzati john no 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 non mi morire john non mi morire john madonna mia attenzione john jones studia l'avversario si si para e sfera un calcio oh shit si picchia forte basta con queste sottomissioni di merda brutto vai bravo 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 john vieni qua rimane lì rimane lì john rimane lì non morire si così si così che lo picchi lo stai distruggendo cosa sono quelle quelle carezzine lì john dov'è il coltello ok ok calma boom bam si parte è andato giù è andato giù vai john finito il primo round qua ragazzi una sfida epica tra due personaggi mongoloidi no è vero comunque veramente bellissimo anche a livello di grafica tagliettino boom qui c'era stato un bel uppercad l'avevo distrutto però lui si è rialzato quindi ragazzi partiamo col secondo round super incazzati come la muerte stai tranquillo stai tranquillo però eh ah ma adesso ti arrivo approccio siiii così no 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 basta però basta sei un puzzone a fare sempre queste cose fiori vai 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 oh così vai valutelli no 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 non morire non morire vieni dai vieni dai bello no non morire non morire non morire dai bravo thyroid no 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 casse ciao a tutto e più di pai fatality praticamente no e facciamocimmo la rivinta certainly taglietto veloce eccoci qua subito per la rivincita subito partiamo non morire ok così sto cercando di capire i tasti non moriamo ok vieni dai vieni che adesso ho capito i tasti vieni dai vieni vieni PewDiePie vieni oh vieni dai basta però che schifo che schifo con queste cose vieni vieni dai vieni vieni dai scambio di pugni era avvicinato non morire oh shit oh shit si si adesso che lo lo uccidiamo mamma mia oh 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 shit yes questa è una rivincita questa è una fottuta fucking rivincita dove voglio mille mila fucking like bam ciao ciao PewDie ciao PewDiePie hey bang wow ragazzi ci metterò il fatality ragazzi che grafica fauroso john john's john joans johnсы johns eto questo ragazzi spero di avervi divertito abbiamo vinto abbiamo perso Ditemi se volete i replay con le parti invertite, se volete che faccia più di PAI Guardate la foto Detto questo lasciate millemila like, iscrivetevi al canale, commentate e ditemi cosa volete dalla vostra vita E non lo so cosa volete farci con sto video, condividetelo magari, non lo so, fate qualcosa Gianluca Ad ogni modo, detto questo, ci vediamo a un prossimo entusiasmante video Ozzo Sgana Wia Grazie a tutti